E' aperta l'innovazione, si propone di accrescere la formazione culturale dei giovani e non solo, incentivando e promuovendo percorsi formativi con un'attenzione particolare al video e all'utilizzo delle nuove tecnologie. E' il laboratorio urbano MediaVision che propone un corso gratuito di video editing digitale, un corso intensivo durante i quali gli allievi acquisiranno gli strumenti e le competenze necessarie ad utilizzare un programma di montaggio digitale, oltre che una conoscenza teorica e sperimentale delle varie tecniche di editing. Il corso della durata di 52 ore sarà aperto a massimo 12 partecipanti di età non superiore ai 40 anni e si svolgerà presso il centro MediaVision in Contrada Montefreddo 2 a Santeramo. Inoltre è previsto un periodo di tre mesi di tirocinio presso una delle strutture partner aderenti al progetto, tra le quali anche la nostra emittente. Gli allievi avranno così la possibilità di confrontarsi concretamente con le tecniche del video editing sul campo. Gli interessati possono consultare il bando completo e ritirare la domanda di iscrizione presso il centro MediaVision o in alternativa dal sito www.mediavision.ba.it. Termine ultimo per le iscrizioni 25 marzo 2011. www.mediavision.com